Se ne parlava e discuteva da anni, ma adesso c'è l'accordo ufficiale. La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa con l'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale e con il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Foggia per procedere ai lavori di smantellamento dei nastri trasportatori del pontile e del bacino alti fondali del porto industriale di Manfredonia, un manufatto che si protende nel mare per due chilometri e mezzo, su cui per oltre trent'anni sono stati attesi interventi. L'attenzione sui nastri trasportatori del porto di Manfredonia è stata assunta come strategica, fa sapere alla Regione Puglia che con il presidente Michele Emiliano e l'assessore al bilancio alle infrastrutture Raffaele Piemontese ha lavorato di concerto con il presidente dell'autorità portuale Ugo Patroni Griffi e con il presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Foggia, Agostino De Paulis, un'attività complessa in cui da ultimo si è integrato il lavoro dell'assessore regionale trasporti Deborah Ciliento. Lo smantellamento dei nastri trasportatori del porto alti fondali di Manfredonia è un sogno che si avvera e il commento di Paolo Campo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che aggiunge sono stato tra i primi, oltre vent'anni fa, a porre il problema dello smantellamento di quell'obreobrose e pericolosa infrastruttura mai utilizzata neanche per un giorno dopo la sua costruzione. Manfredonia e i manfredoniani torneranno finalmente a guardare il Gergano dalla città e dalle sue spiagge, conclude il consigliere regionale. I dettagli dell'intervento di demolizione del proseguo di un progetto di portata storica saranno illustrati il prossimo mercoledì 3 luglio presso la banchina 1 del porto industriale da tutti i firmatari del protocollo di intesa.